bella a tutti ragazzi da san potanto trecci qua sempre su minecraft sempre su xbox one sempre nuovo mondo benvenuto nel mio canale ragazzi come potete ben vedere ho dato una sistemata camera a tutto il villaggio ho messo le porte dove dove dovevano andare qua c'è sempre la nostra piccolina che non sa dove andare al mare ma noi ragazzi che facciamo oggi oggi volevo ampliare la casa sono portato un po di materiali volevo fare sempre il classico ampliamento 123 no quando va già già iniziamo col piede sbagliato allora io direi qua quindi 123 e andiamo in qua non so di quanto fino qui così perfetto adesso andiamo di qua così si era un po bagatina la seratina io allungherei fino qui ragazzi però mi serve della sabbia o della terra un attimino che copro qua e così ci facciamo una mega a casa per i villager tu che vuoi che erico carne marcia prende come c'è bonco a posto mi anche avanzato un po che magari coprerò più in qua quindi la facciamo fino qui poi permesso è lavoro in corso dai ok basta fino a qui dai io penso che questa qua verrà fuori una super mega ok adesso tiriamo una linea dritta fino qua guardate la trattarughina sempre che non sa dove andare ma tu non preoccuparti che troverai la strada tra lo dico io ok continuiamo andare avanti noi quanto dobbiamo andare avanti non lo so a ragazzi è proprio una cosa semplicissima in cobblestone perché deve essere super mega iper funzionale allora io direi che potrei farmi la scalinata noi sabbia no in cobblestone in cobblestone sì per salire qua che si dobbiamo mettere le traversine via questo e ho portato anche un sacco di porta un sacco di scalini quindi qua ci va la prima se non sbaglio sì io spero che ci venga giù cioè io non ho mica ragazzi sto facendo tipo a casa non sto prendendo le misure ha però quale era meglio se giravo se facevo il tetto a girare no no lo facciamo spiovente come ce l'hanno loro manteniamoci ai loro standard è però già sbagliato mannaggia me vabbè dai andiamo di qua ma posso fare anche da per terra dai adesso riprendo la scala che non andrà più bene bene ragazzi così si lavora è meglio farla da fuori la scaletta no che dite che tanto consumato uno stack giusto giusto non penso dai ok quindi andiamo avanti qua piano la trattarughina v non so cosa mangia crescerà chi lo sa ok tac così però adesso ok che fortuna io farei così prima di tutto e mi servirà anche una fila di slab perché in centro dovremmo metterci le slab perché non è centrato c'è centro non è centrato nessun problema noi ragazzi non ci fa paura niente niente e nessuno così perfetto attenzione a non cadere ok sono avanzati un bel po di blocchi perfetto adesso mettiamo gli scalini così così ah so che i primi erano più incasinati a mettere allora facciamo così oh è no di là però è così come me li fa allora un momento è io farei così allora tanto dopo la posso lasciare o spaccare uguale per me indifferente però a metterci gli scalini sto prima tanto dopo sto un momento a spaccarla lavoro in corso per i video ragazzi spero che ci bastano i scalini comunque dai adesso io finisco il tetto preparo le slab altrimenti mi spawnano i mostri ma al limite no al limite ci metto no ragazzi ecco ci metto le torce sopra non qua ci metto le torce sulla fila centrale no facciamo una bella fila di torce centrali guardate che bello così proprio a più non posso così guardate che bello e adesso posso spaccare il questa fila qualche non mi serve e la rimonto dall'altra parte poi ragazzi ci vediamo quando metto le porte ho fatto tutto adesso demolisco qua ancora sta tartaruga ma è quella di prima cresciuta ha fatto un uovo cos'è squama io non l'ho ammazzata non ti ho fatto niente io forse lei che è cresciuta ha cambiato non capisco è un momento adesso ti apro e fammi finire qua dopo appena viene il sole mettiamo mettiamo le porte e poi loro in teoria dovrebbero addirittura iniziare a riprodursi e addirittura a fare a creare qualche golem ok vai 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 di là ma dai non farmi cadere anche me no 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 resta ok si deve essere che roba ragazzi c'è una squama e mo vorrei rientrare no 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 bella mi dispiace ok allora aspettiamo che passi la notte perché quella vedo troppo pericolosi comunque qua non penso spawn e niente siamo tranquilli tutto bello illuminato le decisioni di maialini tra l'altro le torce hanno non le ho finite perché spaccando mannaggia ci sono dei buchi ma no non può scappare nessuno però io ritappo lo stesso mettiamo un po di illuminazione ragazzi che male non fa tiene via un bel po di gente cosa finita le torce vabbè dai aspettiamo che arrivi il giorno ragazzi mettiamo le porte ok ragazzi sta albeggiando il il villager sono usciti a lavorare diciamo io li piazzo tutte le porte sperando che mi bastino sperando ecco già cominciano è già cominciano ragazzi prepariamoci all'assalto delle porte tutto in quercia ok sento il rumore di villagerini no come cavolo è fatto e ho sbagliato io qua errore di progettazione vai vai su vai 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 dai vai 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 por favore dai che si stanno a riprodurre cose qua sentite che macello comincia lo smaronamento di di porte no 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 non ho scappato che se piccolo vai via ok perfetto 1 se io faccio così non dovrebbero scappare se dovessi far così si lascia così così non scappano ok ragazzi cominciano a ecco sta funzionando tutto vediamo ha già sponato un gol e ma anche perfetto grande golem questo qua ragazzi si annaggia nata tartaruga bloccata senti un po io ti apro però tutte ne devi anche andare vai 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 di là di là di là c'è il mare statene buono ok ragazzi bene 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 c'è il golem che fa la guardia ci sono i piccolini dovrebbe dargli anche una rosa al piccolino e so che c'è gli da un fiore anche ogni tanto e vediamo se lo becchiamo mentre lo fa non lo fa comunque si via già stanno crescendo a un ritmo impressionante non dovrebbero cadere in acqua perché c'è andare in acqua perché se vanno in acqua sono furbi mo c'è una torcia la metto qua che abbiamo dei pisciano pieni di mini villager come procede quale ha calmatemi un po queste porte chi è che fa tutto questo casino qua tu perché sei nell'angolo vai via ok calma è che ha buttato il pane e che gli danno pane ma chi lo dà il pane questo tu sei un agricoltore a ok tu sei un agricoltore quindi perfetto ok ragazzi vedo arca il golem andrà sott'acqua però e va bene creeranno un altro non posso mica star qua recintare tutto io no o sì o no a io recito quello che riesco perché lui dopo un po potrebbe anche venire su a galla no che dite magari però se facessi una cosa così giusto per lui così evita di cadere di qua facciamo uguale che poi tratto di quando l'oro cintano fitto di recintare come mai questo orrore ok facciamo così finisco ragazzi e qua mettiamo facciamo un muro prima di sabbia e poi no facciamolo di sabbia che visto che ne ha 80 da due così non entra nessuno ha però possono entrare da lì ok continuiamo il muro di sabbia e sì perché ho finito le stazionate aver arrivato qua a vabbè poco importa allora qua dobbiamo fare un bel muro di cinta ma magari potrei continuare con la stazionata di no io c'ho le assi di legno posso fare un bel cancello e qua è l'ingresso qua ci facciamo l'ingresso ragazzi del villaggio e ma quali avevo quercia vabbè dai non mi interessa qua tappiamo così e ci facciamo l'ingresso al villaggio anche se è il punto più schifoso dove fare l'ingresso ma meglio di niente o ragazzi io miracoli non li so fare ancora su minecraft quindi se ho fatto riprodurre villager c'è un maiale ok quindi io faccio 1 2 3 4 così già è già qualcosa quindi possiamo mettere qui qui un cancello che è e poi proseguire con la stazionata che tanto ne vengono fuori che ci manca ai stichettini calma così così basta 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 così bene ragazzi finisco di recintare e siamo a posto quindi ragazzi il villaggio mannaggia come ha fatto a chiudersi fuori questo caspita di golem da dove sei uscito tu dai vai dentro vai vai che devo chiudere ok non dovrebbe più uscire spero ok perfetto allora ragazzi io che sapete che faccio io sapete che faccio vediamo se è vero io moglie lancio io vi lancio il pane anche a voi dato che non ho tanto che prendetevelo accoli guarda come se lo stanno scambiando a bombata ok io adesso vado se mi permetto gli rubo finalmente le carote ragazzi cosa abbiamo già tutti i nostri insieme le carote ragazzi sono importantissime per la visione no no per sì la visione notturna mi pare c'è la carota d'oro oro ne abbiamo ragazzi dato loro me ne faccio niente faccio le pepite ci faccio la carota d'oro carote 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 queste note te le tieni eccola le carote le altre carote con lassù qua non mi fido comunque l'abbiamo già 40 prendo tutte queste e ce le andiamo a piantare ragazzi nel nostro nuovo punto ok uno stack e 11 penso che ma se ce ne sono ancora però se ce ne dovessero essere ancora c'era un altro orto qua fatemi vedere bene dove ecco qua sono delle carote c'è acqua dietro la che sono scommetto che qua troverò delle carote tratto ho avuto fortuna perché di solito non ci sono così tanti eccole qua patate ragazzi neanche uno ma chi se ne frega carote 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 questi no quelli tientali queste che schifo ok mi sa che come siete usciti voi maledetti no 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 entra ho sbagliato la recensione entrate entrate di là via 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 dai 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 entrate di là no 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 non uscire non uscire non uscire e mo mi sono chiuso fuori vabbè questi qua chi se ne frega non voglio capirla è mannaggia un altro che se ne va sbagliato errore mio ma nessun problema è l'ho fatto a livello quindi era sbagliato e mostri qua che faccio potrei recintarli doppi tipo così ok da che se ne va vai di là vai bravo non c'è più nessuno no 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 fermi tutti ti è hola no dai vieni dentro dai vai muoviti prima che ci sono altri muoviti perfetto no 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 ok e vabbè quello lì quello aspetta un momento vieni di qua vieni 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 bravissimo hola tanto abbiamo sei torce ragazzi possiamo permetterci facciamo così e chi si è visto si è visto facciamo così mettiamo altre torce hola adesso dovrebbe uscire più nessuno e facciamo un rapido controllo a cavolo tu da dove sei uscito dai no dai andate dentro schifosi dai e però è e bo quando viene buio vi frega vuoi già rientrare ok tu vuoi venire dentro però sei troppo vicino agli altri lasciamo lì tanto gli altri non dovrebbero scappare qua carote non ci sono avevo già visto o ragazzi io adesso me ne torno a casa a casetta mia che non ce l'ho però ragazzi adesso andrò a piantarmi le carote quindi ragazzi prossimo gameplay avremo delle belle carote da piantare no avremo delle belle carote già piantate e noi come sempre a mannaggia dato via tutto il pane andiamo adesso me lo ritorno a prendere perché se no dopo non posso più correre e saltare e ci sto 30 anni vabbè che la casa mia vicina però comunque avere un po di scorta di cibo fa sempre comodo è bene ragazzi io direi che quindi per questo video tutto come sempre se questo video vi è piaciuto mi invito a mettere mi piace questo video iscrivetevi al canale se ne avete fatto noi ragazzi come sempre ci troviamo in un prossimo video sempre qui su minecraft ciao a tutti